1864 siamo nell'arcipelago di la maddalena isole e le isole si sa sono dei microcosmi dei mondi a parte queste poi sono isole di confine si trovano in un tratto di mare tra la corsica e la sardegna e quindi sono un croceria un croceria di velieri di storie di culture diverse e soprattutto in questo pugno di isole in quel periodo c'è un abitante illustre a caprera vive giuseppe garibaldi garibaldi all'epoca è una sorta di star internazionale ogni settimana arriva un vaporetto alla maddalena che porta ammiratori avventurieri sognatori provenienti da ogni parte del mondo per incontrarlo per conoscerlo il 19 gennaio 1864 da quel vaporetto sbarca michael bacunin il grande cospiratore il grande rivoluzionario per andare a caprera da garibaldi nelle stesse ore in paese alla maddalena avviene una morte misteriosa viene ritrovato il cadavere di l'origa il commerciante il proprietario dell'emporio perché misteriosa misteriosa perché qualche sera prima l'origa si era presentato un po' minazzato in taverna all'osteria del paese aveva raccontato accolto dall'ilarità generale di aver assistito alla reula che cos'è la reula la reula è la processione dei fantasmi che dà il titolo al giallo è un'antica leggenda gallurese che racconta di un corteo di anime penitenti che vaga nella notte vicino ai cimiteri lo sventurato che dovesse incrociare la reula beh come potete immaginare è presagio di sventura è l'annuncio di una morte imminente come è capitato all'origa è chiaro però che il nostro protagonista il maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali bacchisi otanchis non può accettare questa spiegazione questa versione e quindi è chiamato ad indagare assieme al suo braccio destro brigadiere de rosa si è chiamato a dipanare il mistero e a districarsi tra piste tracce indizi e sospetti che faranno emergere anche i loschi traffici in cui l'origa era coinvolto accanto però c'è un'altra indagine parallela portata avanti da un vecchio lupo di mare daniel roberts ex capitano della marina inglese che ha scelto di vivere alla maddalena e che si farà dare una mano da don mamia il paro con prete anticonvenzionale erede di un'antica stirpe di banditi galloresi don mamia daniel roberts il maresciallo tankis sono tutti personaggi realmente esistiti personaggi storici reali che io poi ho reinventato con la mia immaginazione e soprattutto loro malgrado o coinvolto in un'indagine per omicidio però non c'è il dubbio che gli abitanti di quest'isola sono coprotagonisti questa comunità bizzarra piccola eppure multietnica in cui c'erano pescatori campani scalpellini liguri contrabandieri maltesi streghe corse militari piemontesi una comunità attraversata anche da come spesso capita isolani da un tratto di follia perché gli isolani che vivono circondati e soggiogati alla bellezza dalla forza della natura e degli elementi e che quindi vivono anche soggiogati dal vento che la fa da padrone che spettina i pensieri che confonde scompiglia i pensieri quindi c'è questo tratto questa vena di follia che in dialetto madalino viene chiamata macchinu e di cui probabilmente neanche l'autore del libro è completamente esente di cui probabilmente neanche l'autore dell'autore 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 del